Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, io sono Gualtier e questo è il mio canale un canale dove parlo di una delle mie più grandi passioni, ovvero quella per i libri con la speranza di instillare un po' di curiosità in chi guarda i miei video facendo conoscere dei titoli che secondo me vale la pena di leggere nel caso non l'aveste ancora fatto vi ricordo che potete iscrivervi qui sotto, lasciare un commento, mettere un mi piace, eccetera eccetera oggi video un po' diverso dal solito ma un format, diciamo così, che ultimamente torna spesso e volentieri sul mio canale ovviamente sto parlando del booktag, un modo carino per parlare brevemente di tanti libri insieme e per conoscere nuovi creator, partirei subito, oggi un booktag a tema cibo, iniziamo ma prima ovviamente sigla bene partiamo subito, booktag food lover a tema cibo ovviamente lascio in descrizione i nomi dei creator, dei miei colleghi che mi hanno taggato e di chi ha creato questo booktag partiamo dalla numero 1 La cucina della nonna, un libro nostalgico e rassicurante ovviamente alcuni titoli tornano spesso e volentieri quando si tratta di booktag e per questa prima categoria ho optato per Sostiene per era di Antonio Tabucchi Quando penso a questo libro una delle prime emozioni che provo è sicuramente la nostalgia dovuta anche al fatto all'atmosfere malinconiche tipiche della letteratura portoghese ho parlato di questo libro in un video dedicato che vi lascerò ovviamente in descrizione comunque Tabucchi è forse il più grande, era il più grande esperto di letteratura portoghese e italiano ha vissuto anche in Portogallo ma recuperatevi il video e troverete tutto quello che vi serve rassicurante perché leggendolo per la prima volta mi ha fatto rendere conto che come dire, non sono solo che ci sono tante persone che hanno delle lotte intestine, dei moti interiori e a proposito anche se in genere non leggo dei passaggi durante i booktag vi leggerei uno dei passaggi che mi è rimasto più impresso e in questa scena ci sono il dottor Cardoso che sta parlando, che sta raccontando a Pereira di una teoria che ha studiato a Parigi della confederazione delle anime e Tabucchi scrive Mi racconti questa teoria? disse Pereira Ebbene, disse il dottor Cardoso credere di essere uno che fa parte a sé staccato dall'incommensurabile pluralità dei propri io rappresenta un'illusione, peraltro ingenua di un'unica anima di tradizione cristiana il dottor Riboy e il dottor Jeannet vedono la personalità come una confederazione di varie anime perché noi abbiamo varie anime dentro di noi, ne è vero una confederazione che si pone sotto il controllo di un io egemone il dottor Cardoso fece una piccola pausa e poi continuò quella che viene chiamata la norma o il nostro essere o la normalità è solo un risultato, non una premessa e dipende dal controllo di un io egemone che si è imposto nella confederazione delle nostre anime nel caso che sorga un altro io, più forte e più potente codesto io spodesta l'io egemone e ne prende il posto passando a dirigere la coorte delle anime, meglio la confederazione e la preminenza si mantiene fino a quando non viene spodestato a sua volta da un altro io egemone per un attacco diretto o per una paziente a erosione forse, conclude il dottor Cardoso dopo una paziente a erosione c'è un io egemone che sta prendendo la testa della confederazione delle sue anime dottor Pereira e lei non può farci nulla, può solo eventualmente assecondarlo che dire, è un passo veramente veramente interessante assolutamente consigliato, sostiene Pereira e passerei al prossimo libro seconda categoria, secondo libro Pranzo in famiglia, un libro allegro e rilassante anche qui un libro che torna spesso e volentieri sul mio canale Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Roy Lewis un libro divertente, rilassante, con messaggi importanti, breve quasi una lunga favola più che un libro ho fatto un video dedicato a questo gioiellino che vi lascerò in descrizione nel frattempo non posso fare altro che consigliarvi di recuperarlo prossimo libro, Dieta un libro che hai letto malvolentieri ma alla fine ti ha fatto sentire bene non l'ho letto proprio malvolentieri però è stato parecchio pesante da leggere non ne ho ancora parlato sicuramente prima o poi arriverà un video dedicato e sto parlando di introduzione alla psicanalisi di Sigmund Freud in sostanza questo mattonazzo racchiude due cicli di lezioni che Freud ha fatto all'università, agli studenti che volevano approcciarsi alla psicanalisi è impegnativo perché è impegnativo ma io volevo approfondire un po' Freud e sicuramente dopo aver letto questo libro non penso che leggerò altro di suo perché penso di, per quanto mi interessava penso di aver fatto abbastanza arriverà un video dedicato e niente vi consiglio di recuperarlo se siete proprio appassionati di psicanalisi sì, andate sul classico psicopatologia della vita quotidiana e va bene comunque categoria numero 4 la mensa dell'ospedale un libro insipido e insapore quando si parla di libri che non mi sono piaciuti e non mi hanno lasciato niente è anche qui un libro che torna spesso e volentieri che non ho in coppia fisica perché me ne sono liberato sto parlando della vita intima di Niccolò Manniti ne ho già parlato in altri booktag non mi ha lasciato niente se no il fastidio di averlo letto e di averlo comprato nuovo e se avete già visto qualche altro mio video sapete che io tendo sempre a comprare libri usati quindi già il libro non mi è piaciuto per svariati motivi troppi personaggi macchietta la storia non mi è piaciuta se vi capita di recuperare un booktag ne parlo in modo più approfondito ma ora non voglio tornarci se no ricresce il fastidio comunque no insipido forse è ancora un complimento per quanto mi riguarda mi spiace di essere così severo ma con Manniti di cui tra l'altro ho amato altri libri ma questo qua proprio per rimanere in tema di cibo non l'ho digerito passiamo alla prossima categoria 5 Natale in famiglia un libro corale abbondante e rasserenante e per questa categoria ho scelto le pietre magiche di Shannara direi tutta la trilogia ma ho scelto le pietre magiche perché è quello che dei tre mi è piaciuto di più veramente quello più innovativo quello più ricco di avventura ho fatto un video dedicato alla trilogia anche questo ovviamente lo trovate in descrizione e per lungo tempo Terry Brooks è stato il mio autore della Buonanotte prima di andare a dormire lasciavo che mi coccolasse con le sue storie come sapete forse non lo sapete se non avete visto il mio video la trilogia sì e no però questo libro vale veramente la pena ovviamente anche se dei tre secondo me è il più brutto per comprenderla pieno dovete recuperare anche la spada di Shannara però ne varrà la pena perché poi arriverete a questa questa avventura incredibile originale e niente quindi fidatevi fate lo sforzo leggetevi la spada di Shannara così poi potrete godervi appieno le pietre magiche prossimo pasto Merenda dagli zii un libro veloce ma sostanzioso che tra l'altro sono anche i miei libri preferiti per carità ogni tanto un bel mattone ci vuole però ci sono dei libri che in poche pagine riescono a dire tutto a lasciare messaggi e spunti di riflessione veramente profondissimi uno di questi anche qui probabilmente fa parte della mia top 10 ne ho parlato tantissimo c'è il video dedicato che troverete in descrizione e sto parlando di Flatlandia di Abbott uno dei più grandi esempi di satira inglese al pari dei viaggi di Gulliver di Swift forse un po' meno conosciuto e anche un po' sottovalutato però partendo dalla fantasia che ha avuto Abbott di ambientare il suo racconto in un mondo a due dimensioni però tutto funziona riesce a spiegarsi benissimo e in tutto questo c'è una satira onnipresente nei confronti dell'umanità questo in particolare critica la società dell'epoca vittoriana ma vi assicuro che ancora oggi ci sono degli elementi attualissimi quindi non posso fare altro che consigliarvi prima di recuperare il mio video e poi di recuperarvi questo capolavoro numero 7 la mensa dell'ufficio un libro letto in fretta e in piedi allora in genere a me non piace leggere di fretta però ovviamente quando uno trova un libro che lo appassiona lo legge in fretta e in piedi in ogni momento possibile e qua era un po' che non lo citavo mi tocca nominare il mio padre spirituale magari ovviamente sto parlando di Umberto Eco e questo è l'era della comunicazione non è ancora uscito il video a proposito di questo libro ma come sempre con Eco si va sul sicuro una raccolta di mini saggi e articoli a tema comunicazione ancora una volta Eco si è dimostrato anni e anni avanti rispetto ai suoi contemporanei nel saper intercettare e descrivere come funzionano i mezzi di comunicazione che rapporto c'è tra la tv e la stampa appunto non ne parlo ancora in modo approfondito perché voglio farci un bel video ma sicuramente un libro consigliatissimo proseguiamo con un buon dolce di compleanno un libro fatto su misura per te ultimamente non ne ho parlato tanto ma per forza di cose ogni tanto ritorna sto parlando di uno dei libri che negli ultimi mesi è tornato più sul canale il libro che sto cercando di regalare a tutte le persone che conosco il mio caro e amato Firmino un inno d'amore alla letteratura storia interessante personaggi clamorosi tante citazioni letterarie un libro fatto su misura per me ma sono sicuro che è fatto su misura numero 9 dieta da influenza un libro caldo e coccoloso e qui mi tocca citare di nuovo il ciclo di Shannara mi ha accompagnato per tanti e tanti giorni prima di andare a dormire Terry Brooks mi cullava raccontandomi le sue storie fantastiche e niente quindi per questa categoria mi tocca citare un libro che ho già citato infine 10 Piatto Gourmet il libro più godurioso che hai letto e qui ce ne sono tanti goduriosi però mi tocca di nuovo citare Eco con Apocalittici e Integrati un libro illuminante e godurioso perché vedere un peso massimo della cultura un gigante come Umberto Eco che in maniera seria e neutrale e professionale si metta ad analizzare un medium come il fumetto che ancora oggi ma pensate negli anni 60 era derubricato come cultura bassa popolare adatto solo per la massa dall'intelligenza e dal gota degli intellettuali qui arriva Umberto Eco che dice ma è un medium come tutti gli altri e io con la mia serietà da intellettuale devo analizzarlo e così senza pregiudizi come dovrebbe fare un vero intellettuale si mette lì studia e analizza vi faccio solo vedere questa pagina di un fumetto Steve Canyon lui dedica un intero capitolo ad analizzare solo questa pagina e ne viene fuori un racconto veramente lucido si vede scevro da ogni forma di pregiudizio leggendo apocalittici integrati ho veramente goduto tantissimo e con questo finale godurioso siamo anche arrivati alla fine del video come sempre vi ringrazio per averlo guardato vi ricordo che nel caso non lo aveste ancora fatto potete iscrivervi qui sotto lasciare un commento mettere un mi piace condividere il video farlo vedere ai vostri amici ai vostri parenti fermare i passanti per strada invitandoli a iscriversi al mio canale ovviamente sto scherzando ma come sempre un piccolo gesto da parte vostra è un grande passo non per l'umanità ma per il mio canale io vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo video